Buongiorno a tutti amici miei e buongiorno ai nuovi iscritti oggi vi voglio parlare di un tema che sta spopolando negli ultimi giorni che è quello inerente alla Superlega tant'è che ieri ne stavo parlando con mio padre gli ho detto a papà che ne pensi della Superlega lui mi guarda e mi fa che hanno sostituito l'acciaio quindi pensa un po' ancora questa cosa adesso ormai invece è diventata popolare è diventata di turno ne parlano tutti dimmi chi è che non parla di una Superlega negli ultimi due giorni i blog sono pieni di questo argomento mi padre no perché mi padre ci faccio cose serie quindi non mi interessa di queste Superlega e di queste super cose e lo farò introducendo poi comunque sia durante questo video dei personaggi dei personaggi che sono dal Galeassi al Pizzul al Ciro nazionale e al Moggi nazionale introducendo questo la cosa che come direbbero se andasse in porto questa cosa come direbbe il Marchese del Grillo è morta la giustizia quindi non si può fare una cosa del genere è veramente scandalosa comunque partiamo con il video Galeassi che come al solito prende parola dalla mamma della televisione buonasera a tutti siamo collegati qui da Londra dove c'è questo vertice è importantissimo dove si verrà a capire se andrà tutto a pasta e ceci o andrà in porto questa cosa della Superlega ma andiamo a sentire anche altri opinionisti la parola a Bruno ah sì buonasera Giampiero oggi veramente è una giornata uggiosa come direbbe Battisti perché si sta pensando di fare un campionato a parte e questa cosa a noi non ci piace neanche un po' anche perché ricordo che in passato questa cosa fu fatta proposta anche dalla Cavaliere scusate ma questa idea è stata mia tanti anni fa spero che vada in porto e allora pensavo che forse era meglio parlarne con qualche giocatore con il giro nazionale che cosa ne pensi tu Ciro di questa cosa tu che giochi molto bene a pallone ma io penso che questo sia un discorso più grande di me perché non mi aspettavo da alcuni personaggi importanti e presidenti che sono delle persone posate sono degli uomini posati come direbbe Rocco il mio amico sono a livello di British gli uomini posati sono dei posamen e allora penso che io non so se andrei a giocare in Super Lega ma io andrei Super Lega con le persone che hanno partorito in idea di scema perché ora che ho fatto il mio 150esimo gol ho tirato il mucco a scarpare a Pantofoli, Piameteo, a Montipò e la cosa più importante per me adesso è guardare al calcio il calcio va vissuto a 360 gradi a me qua mi pare ci stanno mettendo a 90 gradi a tutto quanto